Bene, di ritorno dalle varie interviste, io mi sono un po' perso le relazioni precedenti, so che saranno state sicuramente interessanti, chiudiamo questo gemellaggio con Mosca dove dopo tutto i problemi dell'acqua sono comuni a tutto il mondo e quindi mi fa piacere pensare che in tanti luoghi del mondo si sta riflettendo sulle stesse criticità e speriamo anche le diverse soluzioni, in questo caso è bello dire che i problemi sono un po' comuni per tutti, le soluzioni sono molto diverse a seconda delle zone del pianeta, c'è chi di acqua ne ha troppa e magari deve gestire l'aumento del livello dei mari oppure le alluvioni, c'è chi di acqua ne ha troppo poca come i paesi desertici, ma se c'è un luogo invece che nuovamente ci unisce, ci accomuna tutti è l'oceano che bagna tutte le terre emerse, che circola, che si muove con tempi molto più lunghi di quelli dell'atmosfera ed è per questo che io chiamerei allora Fabio Trincardi che è dirigente di ricerca di un istituto del CNR e anche altri incarichi se non sbaglio ma io non li so, non ha importanza perché quello che ha importanza è che Fabio Trincardi è un ricercatore di caratura internazionale e che rappresenta anche il nostro paese in tante strutture di ricerca, so che sei appena tornato dal Canada per noi e questo ringraziamolo con un applauso perché hai fatto veramente una toccata e fuga a Ottawa dove avete parlato immagino di mari, di mari particolari, quelli dell'Artico e quindi a lui la parola per questo quadro sui mari dell'antropocena, cioè possiamo dire un po' i mari che soffrono in parte già oggi e con una prospettiva di quello che sarà il futuro. Fabio Trincardi. Grazie Luca davvero per questo invito. Quando ero alle scuole medie mi piaceva l'italiano ma prendevo molto spesso fuori tema e quindi il fatto che hai menzionato l'Artico mi fa fare un brevissimo fuori tema prima della mia presentazione perché credo che sia rilevante. Ho partecipato al G7 delle varie accademie delle scienze che si era tenuto ad Ottawa e che tra i vari argomenti aveva Global Arctic. Io sono andato in Antartide molte volte, mi sono occupato di sistemi alle latitudini estreme ma non avevo mai percepito prima di questo importante convegno quanto sia drammatica la situazione in Artico, quindi se avessi avuto il tempo nel volo di ritorno avrei cambiato la presentazione perché parlo di cose di Mediterraneo che sono molto gravi e ve le dirò dopo, ma quello che sta succedendo in Artico noi dall'Europa e dall'Italia sicuramente non abbiamo la minima percezione. In Antartico il cambiamento climatico è acceleratissimo, le temperature aumentano molto di più che da noi, parlare di due gradi fa ridere perché proprio non è, sono già superati, ma soprattutto l'accelerazione è quello che non avevo colto prima dalle letterature scientifica è l'accelerazione che c'è dal 2012 ad oggi. Dal 2012 ad oggi è ormai inevitabile che si arriverà allo shrinking totale del ghiaccio del sea ice, è questione di quale decennio, se sarà il 30 o se sarà il 2040 e già adesso quando si dice un Artico senza ghiaccio lo si intende nei mesi estivi, però poi in inverno si riforma ma non ci sarà più il ghiaccio pluriannale, non ci saranno più gli spessori di 5 metri ma spessori di un metro, un metro e 60. In Artico non solo è tutto così drammatico ma è il luogo dove avverranno alcuni feedback loops, alcune retroazioni che danneggeranno il resto del pianeta e per questo è importante per tutti noi occuparcene. Ve ne dico due, la riduzione dell'estensione del ghiaccio porta ad una riduzione dell'albedo, l'albedo è il modo col quale con le superfici bianche la terra rimanda radiazione nello spazio e quindi tende a mantenere fredda, a non aumentare troppo la propria temperatura. Ma questo ha un effetto ulteriore sulla colonna d'acqua nella grandissima parte di piattaforma continentale che è profonda a meno di 100 metri e in gran parte 40-50 metri, un immenso adriatico che sta a nord della Siberia, sul fondale ci sono ghiacci di tipo particolare che sono metano ghiacciato, permafrost, che è stato annegato durante la risalita del mare dopo l'ultima glaciazione e rimane lì in forma di ghiaccio perché c'è il ghiaccio marino ogni anno e la temperatura dell'acqua rimane quindi a 0 gradi, diciamo a temperatura bassa. Scomparendo il ghiaccio un mare di poco spessore si riscalda fino a 7 gradi, questo scalda il fondale il quale rilascia metano. Il metano è un gas serra 23 volte più potente della CO2, attraversando una colonna d'acqua di soltanto una cinquantina di metri non fa in tempo ad ossidarsi in CO2 e arriva come metano in atmosfera e come gas serra è 23 volte più potente quindi non vi dico altro, si parla di 50 gigatons di metano in via di rilascio in questo periodo. Poi bisognerebbe dire che la calotta della Groenlandia ogni estate adesso è completamente fusa alla superficie, si formano mulini d'acqua che scendono fino a 3.000 metri di profondità alla base del ghiacciaio e della calotta e aiutano lo scorrimento più rapidamente. Insomma bisogna parlare molto di Artico e adesso passo a una cosa grave ma più piccola che è il nostro Mediterraneo. Una breve definizione per ricordare, l'antropocene è una definizione di uno scienziato italiano, si chiamava Stoppani, nella fine dell'Ottocento ed è la definizione che ci serve a farci capire che l'uomo sta impattando sul pianeta a tutti i livelli per il terreno che muoviamo, per l'acqua che tratteniamo artificialmente, al di là di ciò che facciamo strettamente collegato al cambiamento climatico. Ci sono tutta un'altra serie di impatti legati all'antropocene. Nello schema che vedete dove il tempo profondo della formazione della Terra sta sulla destra, la scala logaritmica dei tempi, si vede che un milione di anni fa compare l'uomo, si vede che 10.000 anni fa, 9.000 anni fa c'è la rivoluzione neolitica che porta alle prime grandi deforestazioni col fuoco e all'agricoltura, poi c'è la rivoluzione industriale. Qualitativamente l'area in giallo fa vedere quanto è diventato più importante l'impatto dell'uomo sull'intero pianeta e in tutte le forme possibili. Una di queste forme riguarda gli oceani e io parlerò in particolare del fondale degli oceani. Allora prendo un mare particolare che è il Mediterraneo, perché ho l'avventura adesso di coordinare questo progetto europeo che si chiama Blue Med e che vuole analizzare la situazione per favorire crescita blu sostenibile per tutta l'area mediterranea in modo trasfrontaliero con tutti i paesi, perché in Mediterraneo si incontrano tre continenti e quindi non è un gioco solo europeo, ma è un gioco culturale globale. Però il Mediterraneo oggi è congestionato dal traffico marittimo, pochi sanno che anche se la nostra superficie è un centesimo di quella degli oceani globali, attraverso il Mediterraneo passa quasi il 30% di tutto il trade globale del traffico e il 25% del traffico petrolifero con rischi eccetera. Abbiamo 450 porti e terminali con una densità di porti che nessun altro continente ha e facciamo un grande business anche sulle cruise ships, di cui adesso non posso mettermi a parlare. Siamo un'area di estrema complessità geopolitica e questo porta a problemi di sicurezza nelle due definizioni di safety and security e abbiamo un'immensa pressione sulla costa, fortemente urbanizzata, che raddoppia nella stagione estiva e moltissimi dei luoghi di vacanza in Mediterraneo non hanno depuratori, arrivano migliori di turisti e impattano biologicamente sull'oceano circostante. In più è un'area di far west dal punto di vista delle risorse biologiche, perché di fatto noi il 50% del pesce che mangiamo non è più pescato in Mediterraneo, perché non ce n'è, e la società sta spingendo per lavorare sulle risorse abiotiche che ci sono nel fondo del Mediterraneo, quindi metalli, solfuri eccetera. Contemporaneamente siamo un posto bellissimo, un posto di unica biodiversità, abbiamo 400 siti UNESCO, abbiamo 230 aree marine protette e siamo un posto che ha una storia culturale di cui siamo molto proud, ma spesso ce ne dimentichiamo. Allora, io parlo solo di tre cose, non è un intervento organico su tutti gli aspetti dell'impatto antropico, ma parlo di tre cose che secondo me sono dimenticate in questo momento, quindi il mio scopo è rise the awareness su questi tre argomenti. Uno, sono il fatto di come abbiamo cambiato le coste e il mare attraverso la storia, perché noi dimentichiamo gli impatti storici, è fondamentale, noi nella storia, società precedenti alla nostra, abbiamo portato dei disequilibri sui sistemi costieri e anche offshore, che abbiamo dimenticato, dobbiamo ripartire da quello e sapere che cosa abbiamo fatto. Poi parlerò di nuove forme di inquinamento dei mari, quindi niente chimica ma i tipi di impatti che stiamo facendo sui fondali, fisici, meccanici, e parlerò di alcuni aspetti della circolazione degli oceani che hanno particolare rilevanza per il Mediterraneo, i cosiddetti motori freddi. Allora, molto brevemente, facendo uno studio di tipo storico sulle linee di riva dei quattro principali delta dell'area mediterranea, compreso il Danubio, un sacco di geofisica, stratigrafia, carotaggi, eccetera, abbiamo fatto una sintesi dei tempi e delle velocità di crescita di questi apparati deltisti, Ebro, Rodano, Po e Danubio. La sintesi è che i periodi di massima velocità di avanzamento di questi delta sono quelli che vedete in nero, vediamo se riesco a indicarne, comunque sono le due cose, le due bande nere che vedete, sono quando la velocità di avanzamento è nettamente maggiore rispetto al resto della storia. Qui sotto vedete il diagramma in verde che fa vedere l'andamento delle foreste e in rosso l'aumento della popolazione. Ma il punto essenziale, mi trovo male perché non riesco ad indicare girandomi, il punto fondamentale è questo, c'è il periodo dell'impero romano e c'è il periodo della piccolità del ghiaccio, sono i due momenti in cui questi sistemi delti si avanzano, sono due momenti climaticamente opposti, completamente diversi, il periodo romano è un periodo caldo e umido, il periodo della piccolità del ghiaccio quando Bruegel faceva i quadri come quello che vedete è un periodo freddo e indipendentemente dalla caratteristica climatica dei due periodi questi delta avanzano per l'impatto antropico, sono le prime deforestazioni fatte dall'impero romano e le grandi deforestazioni fatte durante il periodo che va dal 1400 in poi. Questi sono i modi come si fanno le ricostruzioni storiche e per citare una mappa del Po che non ha il Po moderno come lo conosciamo è la mappa che è di 400 anni fa, prima del taglio di Porto Viro e la mappa che contiene il Po attuale degli ultimi 400 anni, 25 chilometri di avanzamento, essenzialmente un delta antropico. Oggi siamo nel periodo in cui se andate sulla destra nel diagramma la parte che ho segnato in verde tutti questi apparati deltisti si stanno in realtà ritirando. Nella mappa sotto verde vedete tutte le dighe che sono presenti nell'area mediterranea e a sinistra e in basso vedete l'esempio di una di queste. Quindi l'effetto delle dighe si somma al fatto che noi avevamo portato questi delta oltre la loro capacità, cioè fuori dall'equilibrio a causa di tutto il sedimento in più che è arrivato per l'azione antropica e ora fuori dall'equilibrio per tutto il sedimento che stiamo trattenendo negli invasi artificiali. Quindi è un problema che abbiamo creato e che abbiamo aumentato noi stessi. E questo è il risultato, vedete le aree in rosso sono le aree da satellite che si vedono in netto ritiro, in erosione in tutti i delta. Questo forse lo conoscete, adesso non so se riesco a farlo partire da qui con un click, spero di sì, si gira in rete, io mi scuso non ho ritrovato nella fretta i credits perché l'ho preso dalla rete ma non è roba mia, ma è molto interessante far vedere l'accelerazione nei due secoli e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale della costruzione di dighe a scala dell'intero pianeta. Questo ha forti ripercussioni sulla parte marina sull'equilibrio dei sistemi costieri e alcune dighe piccole che adesso alcuni pensano di minare e far saltare per ripristinare gli equilibri precedenti dei fiumi possono contenere grandissime quantità di inquinanti soprattutto il DDT eccetera e quindi rimettere rapidamente all'istante in circolo quindi uno risolve un problema idraulico parzialmente ma ne crea un altro che poi ha un impatto far-fetched nella parte marina. Questa è una cosa molto interessante e mio amico Mike Bloom ha scritto questo lavoro su Nature dove diceva c'è una parola in più nel testo dice the inevitable drowning of the Mississippi Delta cioè inevitable vuol dire non possiamo più fare niente per evitarlo e la domanda per la combinazione di sedimento trattenuto dalle 70.000 dighe che ci sono in tutto il bacino di Mississippi e Missouri piccole, grandi eccetera e per l'aumento del livello del mare che è in atto quindi la combinazione di queste due cose fa sì che il Mississippi come lo conoscete non potrà più essere un Delta fatto così ma il tema politico diventa che cosa sacrificare di queste aree perché non c'è abbastanza sedimento per mantenerlo tutto così com'è allora la decisione è sempre molto impopolare a proposito prima si parlava di campagne elettorali diventa molto difficile dire noi in quest'area non facciamo più niente il Corps of Engineers non interviene perché tanto è un pagliativo mettere un po' più di sedimento qui piuttosto che un po' più di sedimento là questo è una novità che anche la comunità scientifica cominci a ragionare in questo modo e ci fa capire quanto è estrema la situazione passando al secondo punto sulle nuove forme di inquinamento dei fondali penso che sia non parlo molto di acqua ma è importante dirlo si parla tanto delle isole di plastica scarichiamo 300 milioni di tonnellate di plastica tutti gli anni per risolvere il problema uno dei passaggi è andare a parlare con chi vive lungo i fiumi coinvolgere i contratti di fiume spiegare alla popolazione non lo si risolve in mare il mare subisce il problema però io oggi non vi parlo della colonna d'acqua vi parlo di che cosa ci sta sotto allora noi i fondali questo è una collega spagnola molto brava che ha fatto una sintesi di come impattiamo i fondali e ci sono a parte gli aspetti climatici ci sono due cose fondamentali lo sfruttamento di risorse quindi metalli, sabbie e biologiche pesca, strascico ma anche questo aspetto di usare i fondali come aree di discarica e queste sono sia legali che illegali ma anche quelle legali sono fatte al meglio delle conoscenze di quel momento e quindi possono essere degli errori cioè ci si può accorgere che aver scaricato i materiali in un punto è un enorme errore che pagheremo e che limiterà la crescita blu che noi vorremmo fare perché noi ci immaginiamo un ambiente pristine e facciamo crescita blu con quello ma è un ambiente che abbiamo già danneggiato ancora prima di averlo conosciuto e ovviamente usiamo i fondali per le piattaforme c'è un tema di decommissioning di piattaforme di cui sarebbe interessante parlare ma non abbiamo tempo ci sono tre assunti impliciti, sbagliati con i quali noi ci approcciamo all'uso del mare e sono impliciti ma sono sbagliati che le risorse non siano limitate che, e quindi noi guardiamo il mare come qualcosa dove possiamo sempre andare a prendere abbiamo una visione statica del panorama sottomarino e questo non è statico e poi consideriamo ancora che il mare sia tanto grande che gli impatti antropici sì ci sono sulla terraferma ma in mare in fondo tutto si cicatrizza non è proprio così so che per questa audience dico delle ovvietà ma è bene ricordarci allora un esempio mio amico Pere Pug del CISIC di Barcellona ha fatto questo studio bellissimo che bellissimo e tragico ovviamente questo che vedete è un canyon della zona occidentale del Golfo del Leone quindi siamo in nord mediterraneo e dove si vede in giallo il posizionamento di tutti i pescherecci su una quindicina d'anni nei tratti dove vanno a un nodo di velocità quindi quando il peschereccio va piano sta pescando, sta facendo trolling pesca strascico sul fondo e quindi quello dà la densità delle aree dove statisticamente i pescherecci vanno a pensare a pescare questo qui è il dato di battimetria e backscatter dove si vede sopra la stella rossa tutta la parte di piattaforma continentale esterna è stata completamente smussata dal lavoro meccanico di pesca quindi la pesca diventa un agente geologico che cambia la morfologia del fondale cambiando la morfologia riduce la complessità topografica che sostiene la grande biodiversità ma questa grande biodiversità sostiene anche la pesca pregiata che è il motivo per cui tutte quelle linee gialle stavano in quella zona quindi i pescatori vanno a pescare in quella zona perché la zona è di grande biodiversità e di pesce pregiato smussano il terreno tolgono i presupposti perché le specie che vogliono pescare possano ripresentarsi in quella zona quindi è veramente suicida solo che non ragioniamo collettivamente ogni singola famiglia, ogni singolo pescatore pensa a sbarcare il lunario un altro anno o comprarsi la seconda casa è una migliore dell'ipotesi questo è uno studio equivalente che mostra una realtà addirittura peggiore fatta da un mio collega dell'istituto Fabiano Gamberi che fa vedere nei toni del rosso vedete sempre la batimetria siamo davanti nella Sicilia settentrionale davanti a un impianto industriale che vedete quei puntini bianchi sull'immagine Google a terra nella zona del quadrato che vedete sulla sinistra in rosso vi spostate sulla destra vi fa vedere il dato batimetrico con il dato di risposta acustica si chiama Backscatter dice quanto è intenso l'onda la forma d'onda che torna dal fondale non è importante il dettaglio geofisico quello che è importante è che vedete delle aree rotonde molto bright bianche sono zone di discarica di materiale chimico dove vedete il bianco più diffuso sono zone dove la discarica è avvenuta un decennio fa o un po' di più e la pesca a strascico ha portato in giro tutto il materiale quindi c'è un altro tipo di feedback cioè la totale unawareness di che cosa fa uno porta l'altro a peggiorare il problema ulteriormente da tutti i punti di vista non solo per il pesce che poi ci compriamo ma proprio viene fatto in totale non consapevolezza si è parlato prima della digital agenda e dell'open data io sono un pass da run dell'open data cioè noi dobbiamo questi dati metterli pubblici sempre di più perché è un modo per condividere i problemi dove ci sono questa è nella mia cara Venezia un esempio di come città dove incrociano 25 milioni di turisti all'anno l'impatto antropico inconsapevole o del tipo facciamo finta di non vedere colpisce il fondo del mare lì vedete questa batimetria multibeam ad altissima risoluzione eccetera va da 0 metri a 6 metri di profondità nel blu scuro e voi vedete un barchino buttato via i rettangoli sono dei container gettati in acqua le cose rotonde sono dei copertoni di camion che nelle zone costiere si usano come parabordi nelle barche quando i parabordi si rovinano cosa si fa? si getta in acqua tanto la laguna ha una profondità media di un metro e solo nei canali raggiunge 14-18 metri in questo caso 6 metri ma avere questo tipo di immagini che noi abbiamo pubblicato sono open su una delle riviste di Nature uno può andare a prenderle scaricare riprocessarle e vedere è fondamentale che la gente sappia io ho offerto al sindaco di Venezia di fare una mappa ufficiale della batimetria della laguna ma non ho avuto molto successo sarebbe stata un'ottima occasione per sensibilizzare i 25 milioni di turisti che vanno a Venezia con le grandi navi tutti gli anni e poi tornano nei loro paesi capendo il problema faremo in futuro sull'importanza di mappare il fondo del mare perché è sempre importante riferirsi alla storia il primo che ci ha pensato fu Thomas Burnett alla fine del 600 noi in Italia avevamo Luigi Ferdinando Marsili più o meno negli stessi decenni e dice ma sarebbe importante che ogni principe avesse una conoscenza del fondale ufficialmente non ce l'abbiamo ancora poi c'è una differenza sostanziale questo nasce da un dibattito con mio caro amico Ferdinando Boero e su come le mappe che noi rappresentiamo e su cui prendiamo decisioni rappresentano dei pattern quello che dobbiamo in realtà rappresentare sono i processi dove avvengono i processi la loro ricorrenza i processi estremi o i processi regolari eccetera e con questo passo al terzo punto spero di non essere messo malissimo con i tempi che sono gli aspetti di circolazione allora in questi giorni fa freddo abbiamo avuto due settimane fa una decina di giorni molto freddi in nord Italia questa è la situazione di sei anni fa nel 2012 un processo simile a quello che abbiamo vissuto nelle scorse settimane ma più intenso un'altissima pressione stabile sulla Siberia e l'arrivo di venti gelidi da nord est su tutto il nord Italia questo è l'evento del gennaio inizio febbraio del 2012 questo ha avuto un impatto diretto fino a oltre mille metri di profondità nei nostri mari questa era come era l'Italia in quei giorni e come era anche qualche settimana fa in modo meno intenso vedete Venezia ghiacciata era dal 1927 che non si ghiacciava i camion a Trieste ribaltati dai venti di Bora a oltre 100 km l'ora e succede questo che nel nord adriatico che vedete a destra che è come diciamo un processo opposto a quello che descrivevo prima per il mare di Laptev qui siamo in un caso in cui il mare basso si raffredda rapidamente raggiunge l'acqua raggiunge una forte densità viene trasportata lungo il lato occidentale del bacino e raggiunge la piattaforma continentale a sud e adesso tra poco vedrete quelle macchie di colore marrone corrono lungo la scarpata continentale e raggiungono i 1200 metri di profondità i colori sono blu a nord dove c'è la massima densità quest'acqua che corre a circa 20 cm al secondo verso sud correndo aumenta di temperatura si mescola con le altre acque per cui non vedrete mai il blu in basso nel bacino adriatico profondo a sinistra ma il processo e la meccanica è collegato fino ad arrivare alla vedete insomma il processo dura cinque mesi tra una cosa e l'altra ma ha un impatto energetico molto grande noi abbiamo messo giù degli strumenti nella zona di scarpata profonda che adesso rapidamente vedrete anzi penso di poter perché se no mi perdo a descrivere fantastici dettagli ma il messaggio è si raffredda nord l'acqua densa viene trasportata lungo la costa a un certo punto cade sulla scarpata questo processo si chiama cascading ed è diventato molto di moda negli ultimi 10-15 anni prima non era conosciuto e l'adriatico è una delle zone dove questa dinamica è molto intensa tutti gli anni prova a formarsi solo certi anni è significativo perché ci vogliono molte settimane di freddo per raggiungere le densità che vedete nel diagramma questi sono gli strumenti che abbiamo messo nei vari punti non è importante discutere i dettagli ma vedete che i puntini quando sono al limite del cerchio abbiamo le massime velocità che sono 60 cm al secondo localmente anche di più e quando sono nei colori del giallo e del blu le acque sono più dense e più fredde quindi vedete che il colore e la velocità sono correlati e quindi gli eventi energetici in quest'area di scarpata continentale sono massimi solo in queste occasioni di grande raffreddamento atmosferico in fin dei conti e perché è importante questo perché in queste zone ci sono hotspot di biodiversità che noi dovremmo preservare e prima dovremmo conoscere bene abbiamo iniziato a conoscerli con gli ultimi progetti europei coconut è uno di questi insomma poi ce ne sono stati altri ma diciamo è una decina quindicina d'anni che conosciamo questo corallo che vedete il Desmophilum di Antus questo qui sono Madreppora e Lofeglia Pertusa queste sono delle foto Rov fatte da Rov a mille metri di profondità nel sud dell'Adriatico quindi c'è una bellezza da salvare un ecosistema che conosciamo ancora poco ma quest'area è un'area nella quale alla fine di ogni guerra dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale e durante la guerra del Kosovo sono state gettate un'immensa quantità di ordigni allora la decisione è stata presa non per cattiveria cioè i generali non l'hanno fatto per dire vogliamo distruggere l'ambiente l'hanno fatto pensando che il mare profondo sia una zona totalmente tranquilla e non dinamica l'hanno fatto al meglio delle conoscenze di allora succede che invece è una delle zone più dinamiche del Mediterraneo e forse del pianeta questo succede che questi ordigni buttati via possono essere riesumati dalle correnti possono essere momentaneamente sepolti quindi anche avere una fotografia di com'è la situazione non è facile perché non è costante serve un film non basta una foto e intervenire è molto costoso allora cosa si fa si aspetta che il ferro delle bombe arrugginisca sono passati 70 anni dalla seconda guerra mondiale a un certo punto scomparirà quello che non scompare è l'iprite è il gas mostarda tutto quello che sta dentro che comincerà a girare libero come masserelle per la insomma dobbiamo avere presente queste cose che stiamo facendo ai nostri fondali marini nel caso della guerra dei Balcani sapete che il motivo era diverso che se il malcapitato paese che doveva essere bombardato aveva la fortuna di essere sotto una buona copertura di nuvole il caccia non poteva eseguire il bombardamento ma i tipi di caccia che ci sono adesso non possono atterrare se hanno ancora il carico di bombe quindi non potendolo scaricare sui malcapitati dei Balcani lo scaricavano in Adriatico e poi atterravano e quindi abbiamo un numero impressionante di cosiddette cluster bombs e questo qui è la situazione in giro per il Mediterraneo una situazione non migliore è nel Baltico ma nel Baltico hanno molto TNT noi abbiamo molta chimica le nostre sono prevalentemente bombe chimiche vedete i numeri sono alcune decine di migliaia e questo è un problema cioè se noi vogliamo fare crescita blu in futuro dobbiamo sapere che abbiamo delle zone che sono già off limits adesso insomma dobbiamo prenderne atto c'è un altro processo mi avvio la conclusione che è importante quindi oltre alle acque dense che si formano per il raffreddamento invernale negli anni più freddi c'è un'altra cosa ci sono i flussi che arrivano dai fiumi così mi ricollego al discorso delle acque e del bilancio idrologico eccetera ci sono in particolare dei fiumi sulla destra in basso vedete una foto da satellite di quello che si chiama plume cioè il pennacchio torbido di sedimenti in questo caso che esce dal fiume ma ci sono dei fiumi molto corti nel sud Italia ce ne sono tanti in Calabria in Sicilia le cosiddette fiumare che sono prevalentemente senza acqua tutto l'anno poi quando arriva la grande pioggia o addirittura la bomba d'acqua per il cambiamento climatico si scaricano rapidamente questa è una fiumara tipica non vedete acqua questa è una fiumara in piena in alto a destra vedete l'uso che delle fiumare viene fatto in sud Italia cioè sono discariche a cielo aperto totalmente abusive ogni tanto qualche giornale se ne occupa e pone il problema ma fare una discarica abusiva in posti del genere significa che alla piena successiva la foto sotto è relativa alla discarica sopra qualche mese dopo porta tutto questo a creare un flusso di densità che non va in superficie come nel pennacchio torbido del Po che vedete in basso a destra ma va direttamente in profondità e può arrivare anche a 3000 metri non ho preso le foto della Calabria ma sono uguali mi era venuto comodo prendere quelle della Sicilia ma tutta quella parte d'Italia è in questa situazione quando noi facciamo un carotaggio una bennata un campione superficiale del fondale marino il 50% dei campioni contiene materiale antropico cioè statisticamente ma noi prendiamo un campione in aree così grandi è pochissimo il fatto che al 50% troviamo materiale di origine antropica vuol dire che la situazione è disperata e qui vedete gli esempi il bambolotto la macchina da caffè eccetera queste sono immagini a 400-500 metri di profondità lungo la zona diciamo la scarpata dell'Etna verso lo Ionio però poi ci sono anche quello che fisicamente campioniamo nei nostri carotaggi lì vedete in alto il resto di una di quelle vecchie cucine componibili di quelle cucine di quelle stufe che si usavano con gli anelli che ci metteva la legna dentro ci metteva sopra e poi sotto ovviamente una immensa quantità di plastica e così arrivano le conclusioni quindi abbiamo parlato di tre aspetti apparentemente scorrelati ma sono tutti impatti che nascono dalle nostre economie dalle nostre pianure dalle nostre città e impattano sul mare quindi i delta del Mediterraneo è importante ricordare quanto siano già antropogenici anche prima della grande accelerazione il tema dei motori freddi e delle piene fluviali ci fa capire quanto è dinamico il fondale anche a grandissime profondità e quindi anche nel legalmente decidere di buttarci delle spazzature dobbiamo pensare bene a che cosa facciamo oltre a limitare tutto ciò che di illegale facciamo e infine c'è questo fatto di tutte le forme nuove di inquinamento e di impatto come appunto lo strascico poi ci serve da parlare della pesca fantasma che sono le reti che rimangono sul fondo e continuano a pescare senza nessun vantaggio per l'economia cioè uccidono pesce per niente e tante altre cose quindi il primo punto ha a che fare con la memoria dobbiamo ricordarci come abbiamo impattato prima della nostra epoca lo stesso discorso è per i terremoti non ci si dimentica che un terremoto c'è stato e si costruisce quindi questa parte di memoria è lì la comunità scientifica deve aiutare a mantenerla il discorso dei motori freddi e delle piene è il discorso del presente cioè ricordiamoci oggi quali sono i processi e decidiamo in base ai processi che conosciamo e poi la consapevolezza di tutte le nuove forme di inquinamento riguarda il futuro come limitare eccetera in alto a sinistra vedete la piattaforma qua alta che è un oggetto che abbiamo ristrutturato adesso unica in Mediterraneo che abbiamo davanti a Venezia è stata costruita dopo la grande acqua alta l'acqua grande del 66 che è coeva è lo stesso identico evento meteorologico che ha colpito Firenze e contemporaneamente ha fatto 184 centimetri di 194 centimetri di alta marea a Venezia e questa piattaforma fornisce dati in tempo reale nostra del CNR alla comunità e ai decisori perché è bello fare modelli ma bisogna poi anche avere le misure precise di dove sta il livello del mare in ogni minuto l'abbiamo usata anche per fare non solo osservazione ma è anche un luogo diciamo interessante dal punto di vista dell'emozione e quindi sulla piattaforma qua alta se c'è ancora tempo però chiedo a Luca perché forse è andato lungo abbiamo con il gruppo di Sara Micheletto che è qui in sala di Emotion for Change Sara è una violinista della Fenice di Venezia che è un artista che dedica per consapevolezza dei problemi del pianeta una parte del suo tempo a sensibilizzare e quindi qua vi propongo di guardare il suo ultimo video che si chiama Emotion for Change ed è stato girato in gran parte sulla nostra piattaforma qua alta e vi ringrazio grazie grazie da tanto tempo da quando ero piccola mi dicevano i professori guarda che c'è un grosso problema l'inquinamento dell'aria l'inquinamento dell'acqua è un argomento di cui sento parlare da tanti anni ma soltanto recentemente mi sono resa conto della gravità e dell'urgenza di questo problema in particolare in relazione ai cambiamenti climatici e mi sono chiesta che cosa posso fare io come artista per cercare di risolvere questa situazione beh ognuno di noi da solo può fare molto poco ma se tutti noi ci mettessimo insieme potremmo risolvere un sacco di problemi che abbiamo al momento e perciò ho deciso di utilizzare la musica che è la mia professione e la mia arte per cercare di dare un contributo perché fra magari dieci anni o anche meno cinque anni io non mi guardo indietro e dico ma io sono stata a guardare questa meravigliosa natura questo creato che andava distrutto dalle nostre stesse mani non ho fatto nulla non me lo perdonerei non mi guardo indietro non mi guardo indietro non mi guardo indietro non mi guardo indietro ma io sono stata se abbiamo a cuore il nostro pianeta il pianeta blu il pianeta che ci accoglie che ci dà tutte le possibilità che abbiamo per vivere per respirare per bere per mangiare dobbiamo prendercene cura e l'alleanza tra la scienza e l'arte è fondamentale per cercare di raggiungere più persone possibili e cercare di creare una coscienza nuova di unità di non separazione la scienza di nuova di noi Grazie a tutti.